Alessio Bencivenga è l'ultima vittima della strada nell'Aretino. Ha perso la vita proprio il giorno di Pasqua. Operaio edile, residente nel comune di Monte San Savino, nella frazione di Alberoro, è morto dopo una caduta dalla moto sulla quale viaggiava. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio in via delle Casce a Tegoleto, secondo quanto emerso. Il 47enne si stava dirigendo a casa di parenti per il pranzo pasquale, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Arezzo, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando poi a sbattere contro uno dei pali della luce. A lanciare l'allarme è stato un automobilista che ha notato la moto in mezzo alla carreggiata. Inutile, purtroppo, la corsa dei soccorritori, in questo caso Croce Bianca di Arezzo e Monte San Savino, al momento dell'arrivo dei sanitari, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dopo il nulla osta, la Croce Bianca ha trasportato la salma del 47enne all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Nelle prossime ore verranno decisi i funerali.